Adesso ti sparo. Oh merda, che fai capo? Rilassa le chiappe, suono pallottole a salve. Arrenditi, non hai scampo! Ecco fatto, sono 200 slot. Vittoria ragazzi! È un peccato che tu abbia perso tutto giocando alle slot machine, senza contare i 20 che ti avevo prestato. Prima di tutto non me li avevi prestati, ormai erano miei. Che significa che erano buoni? E seconda cosa, presto copriremo le perdite. Il piano funziona, non serve cambiare niente. Dobbiamo solo stare lontani dalle persone che hanno delle siringhe. E da quelle con le slot machine.